eccoci qua ciao a tutti i ragazzi vi presento il nuovo modello della matrix 90 centimetri di lunghezza 22 di larghezza retino alluminio 2x1 manner moss 3 salti tutte le componenti sono in acciaio molto semplice si leva il fermo si alza il telaio si sfila la rete e si sfila il manner moss per infilarla date una leggera pressione ecco basta un centimetro lasciate giusto lo spazio per il telaio si prende il suo fermo la canalina è a posto